Maltrattamenti in famiglia, anche in presenza dei figli minori, violenza privata e violazione di domicilio. Sono queste le accuse nei confronti di un 37enne di Ugento finito in manetta per stalking nel pomeriggio di ieri. Gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano infatti erano intervenuti dopo l'ennesima segnalazione da parte dell'ex moglie dell'uomo che ha denunciato i presunti maltrattamenti. La donna avrebbe segnalato atti di violenza fisica ma anche psicologica da parte dell'ex. Il GIP del Tribunale di Lecce Carlo Cazzella lo scorso 24 maggio per questi motivi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 37enne. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe seguito la ex moglie appostandosi nei pressi dei luoghi da lei frequentati, l'avrebbe offesa e umiliata in numerose circostanze minacciandola di morte in più occasioni. Più volte l'avrebbe aggredita fisicamente, tanto da procurarle lesioni alla presenza dei figli piccoli. La situazione poi è degenerata quando il 37enne ha fatto irruzione in casa della vittima, rimanendovi contro la volontà di quest'ultima. I comportamenti assunti dall'uomo, nonostante il divieto di avvicinamento alla casa della malcapitata a partire da settembre del 2015 da parte del Tribunale civile, hanno generato nella donna un grave e perdurante stato d'ansia, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria dimora, con prescrizione di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione e non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o convivono, neppure a mezzo di telefono o in via telematica, in particolare con la ex moglie.